Allora parliamo un po' di Totto Giunta, voi sapete appunto che il lunedì scorso, lunedì 4 ottobre, si sono fatti i fest scrutini, abbiamo visto un po' come è andata, sappiamo benissimo come è andata, abbiamo visto appunto che il candidato del centrodestra Mauro Mirau ha vinto al primo turno con una progettuale importante, insomma questa è già storia. Adesso c'è la parte diciamo più delicata e più importante diciamo del momento dell'insediamento di questa nuova amministrazione centrodestra con la nomina della Giunta, sapete che una volta che c'è stata la proclamazione degli eletti che è stata fatta credo venerdì scorso a distanza di 10 giorni devono essere nominate anche la Giunta in pratica, quindi ci sono altri 10 giorni, quindi più o meno a spanne parliamo di lunedì prossimo, quindi durante questa settimana Mauro Mirau e i partiti che compongono l'alleanza che ha portato appunto alla vittoria del centrodestra devono trovare la quadra e trovare un certo numero, devono nominare gli assessori in pratica. È una cosa molto delicata perché soprattutto in questa fase abbiamo detto in più volte che diciamo la macchina comunale è veramente in deficitaria di persone, quindi c'è una grandissima difficoltà. L'altro giorno trovavo un amico che è un messo comunale, i messi comunali sono rimasti in due. Sempre giorni fa scherzando con un ex dipendente diceva beh che si vada a pescare negli uffici dove c'è più gente, mi sembra che non sia proprio così, anche prima c'è arrivato sulla pagina di Chiusa Azzurra è un cittadino che si lamenta che non sa quando riesce a fare la carta d'identità perché praticamente ci sono problemi anche là, quindi è tutto in scaletta, quindi il candidato Mauro Mirau con tutta la buona volontà non ha certamente la bacchetta magica. Quindi per questo è assolutamente imperativo trovare gente in gamba perché appunto il rapporto di fiducia che c'è, che ci deve essere tra gli assessori e il sindaco è fatto sì dal fatto giustamente anche diciamo dal peso elettorale che questi candidati, queste varie liste hanno ottenuto, quindi Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia e la lista civica che ho già protagonista ma è anche un discorso di competenza perché magari c'è qualcuno che ha preso tanti voti ma magari il giovane magari non ha l'esperienza sufficiente per iniziare questa nuova legislatura che va incontro veramente a tantissime difficoltà ma anche diciamo delle prospettive perché voi sapete che c'è questo famoso PNRR che è il piano nazionale di resistenza e resilienza che dovrebbe portare una pioggia di milioni ma bisogna anche avere le persone che siano in grado di fare sintesi e anche di accelerare questi progressi perché altrimenti diciamo ci potremmo trovare nella situazione di avere i soldi e non fare nulla. Un esempio è il ponte sul Brenta che anche ieri giorni fa sentivo uno dei proprietari del terreno che oltre due anni fa mi ha detto che avevano iniziato le procedure per l'esproprio ma oggi questo qui non sa nulla quindi al momento con i soldi, con il progetto, con l'appalto fatto siamo fermi, figuratevi per il punto che sarebbe una cosa indispensabile oltre che per la viabilità a dispetto di qualche cialtrone che dice il contrario e oltre che per la viabilità ma anche per il problema della salinizzazione del territorio che sta veramente creando problemi grossissimi. Tornando al discorso della giunta il canovaccio, ve lo dico così senza grandi cose sono praticamente che Fratelli d'Italia dovrebbero toccare 1-2 assessori di peso tra cui il vice sindaco in pratica. Ovviamente vi dico le cose così in maniera così non c'è una cosa definita perché dopo adesso ci arriviamo meglio perché è tutto un problema a incastrare queste parti qui. Un'altra è quella di Forza Italia che lo posso già dire aveva già concordato, Benamino dice che è stato il primo a scegliere, a fare il passo indietro Forza Italia ha fatto il passo indietro scegliendo appunto Mauro Ormelao come candidato sindaco e in questo accordo politico che ci sta tranquillamente aveva già concordato che Benamino andasse a fare il presidente del consiglio e avere un assessorato. Di questo mi permetto già di fare un nome, il nome è quello di Marco Lanza che è stato dopo Benamino quello più votato, ha corso con un matto, è riuscito a guadagnarsi un grande risultato elettorale di cui, gli ho già fatti complimenti di persona ma li voglio fare pubblicamente, proprio l'ultimo giorno era a due ore dalla chiusura dei seggi ancora in giro a chiedere voti e personalmente non faceva cose illegali sempre distanti dai seggi in pratica e stavamo parlando con altre persone che lo criticavano invece quello è il metodo per essere eletti e questo lo dicevo anche ai vari candidati anche di varie liste che invece, lo dico con rispetto perché ovviamente chi corre per la prima volta ovviamente non ha l'esperienza di quelli che ha corso altre volte che non bisogna mollare un'ora. È quello che ha fatto Marco Lanza e quindi si è guadagnato il posto in seggio e in comune e adesso può aspirare anche a fare l'assessore tra l'altro io credo che potrebbe essere assolutamente un buon assessore allo sport che l'ha sempre seguito e ci mette anche tante buona volontà poi c'è stata la lista civica che anche loro dovrebbero toccare 1-2 assessori allora teoricamente la giunta può essere formata da 7 assessori più il sindaco la Lega, anche la Lega dovrebbe avere 1-2 assessori perché il sindaco è della Lega il Mauro Ormelao ha sempre detto io sono il mio partito della Lega quindi praticamente la massima carica, diciamo il pezzo tra virgolette più pregiato è della Lega a tutto questo si aggiunge il problema che per legge ci deve essere la famosa quota di genere e quindi praticamente i partiti devono portare sia un uomo che una donna e Mauro quindi dovrà scegliere e decidere in base alla fiducia, in base alla competenza e anche diciamo anche in base al sesso perché appunto per legge c'è questa legge sorvoliamo se è giusta o sbagliata, se apriremo una grande diciamo riflessione ma non è il caso di farla adesso e quindi praticamente capite come è difficile sarà difficile per Mauro trovare veramente la quadra mi dicono che già mi sono molto bene perché diciamo ha già raggiunto diciamo alcuni obiettivi quindi però c'è il dubbio di come far perché veramente c'è il problema soprattutto diciamo in certe liste adesso io personalmente non lo so, può darsi che ci sia però non so quali sono già i nomi per quanto riguarda gli assessorati della Lega al momento io lo dico sinceramente non ho idea so che invece per quanto riguarda Fratelli d'Italia mi permetto di spendere questo nome perché l'ho sentito più volte credo anche che sia un'ottima scelta quella di Daniele Brasciola Daniele Brasciola che ha fatto già diciamo ha fatto già più non è mai entrato in consiglio però per un pelo ogni volta però insomma è cresciuto e già ha diverse legislature che concorre ha seguito con attenzione la campagna all'interno di Fratelli d'Italia e tra l'altro hanno fatto come gruppo hanno fatto diciamo lo dicono apertamente che i quattro consiglieri eletti di Fratelli d'Italia che sono appunto Massimo Mancini che ha fatto come al solito il pieno di voti ma poi c'è la Katia Annot spero non ne ho sbagliato il cognome poi c'è il Beneguolo il bosco del Beneguolo Mattia dovrebbe essere Matteo adesso scusatemi viene un attimo il dubbio e il famosissimo credo Mullo detto Mulletto che anche questa volta si è confermato all'interno di Fratelli d'Italia di questi fare di loro dovrebbe essere lo dicono c'è già un accordo su una persona una persona presumo che sia Daniele Brasciola a dire il vero più di qualcuno so che più di qualcuno mi riferisce che anche il Massimiliano Tiosto Cainazzo ci sarebbe gradito a qualcuno di Fratelli d'Italia in questo caso a Matteo Penso che anche se non è in giunta anche se non è in consiglio ha partecipato lo dice apertamente attivamente a questa campagna però al di là diciamo di lo dico io non sarei contento per niente però questo è il mio parere personale c'è il problema sempre di genere e quindi è un po' difficile che diciamo non so come si faccia a pensare a mettere il Massimiliano Teosto Brasiola in giunta con tutti i passaggi di camicia che ha fatto però comunque ognuno ognuno artefice del proprio successo o insuccesso se hanno fatto se faranno questa scelta staremo a vedere però c'è il problema c'è il problema che sempre con la quota di genere se ognuno presenta due nomi non riescono a due maschi due uomini e praticamente non riescono a fare la giunta per quanto riguarda la lista civica anche lì non si capisce bene cosa succede perché da quel che abbiamo sentito nessuno di quelli che è entrato c'è la Marcellina Singatini l'avvocato Davide Vianello l'avvocato Francesca Donà e l'avvocato Griguolo praticamente di questi un po' per inesperienza un po' non sappiamo mai la motivazione nessuno di loro almeno apparentemente la Marcellina è anche comprensibile perché tra l'altro è un professionista e avrebbe l'esperienza sarebbe la persona forse più giusta tra l'altro anche una donna e quindi forse non sarebbe la figura forse sarebbe la figura più indicata per diciamo per avere in giunta una persona competente di fiducia che ha preso i voti e che ha già un'esperienza amministrativa di 5 anni e quindi da questo punto di vista sarebbe sicuramente la più tra virgolette probabile sembra che la stessa Marcellina che è una professionista e lavora molto in pratica e non se la senta di fare non se la senta di fare questo impegno diciamo quindi ritornando al totto nomine praticamente i nomi di cui abbiamo noi sulla carta cioè che vi do praticamente per certi sono sicuramente Marco Lanza per quanto riguarda Forza Italia e Daniele Brasiola per quanto riguarda Fratelli d'Italia per il resto al momento non abbiamo aggiornamenti vedremo come finire sappiamo per quanto riguarda Fratelli d'Italia che c'è il Nicola Boscolo Pecchie che scalpita per entrare in giunta mi dicono mi dicono però questo qua io ve la dico che addirittura fa riunioni dicendo che sarà il prossimo assessore alla pesca però da quello che mi risulta il gruppo consigliare che è in consiglio non lo vuole assolutamente c'è il problema diciamo del 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 genere in pratica e quindi da 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 è molto difficile che Nicola Boscolo Pecchi possa entrare in giunta non è entrato in consiglio comunale non è neanche il primo dei re eletti e il secondo dei re eletti la prima dei re eletti dei non re eletti è la Elena Zennaro e questa è la situazione attuale e vedremo i prossimi sviluppi sapete che ormai l'età ce l'abbiamo avanzata abbiamo fatto già altri non avanzatissimi ma insomma non più giovanissimi e sapete che abbiamo avuto esperienza avuto esperienza di consiglio comunale per dieci anni l'ho già detto privatamente mi raccomando soprattutto al sindaco Mauro Melao che in un certo senso il mazzo delle carte c'era lui può lui decidere diciamo appunto in base sia al rapporto di fiducia ma anche in base alla competenza di formare una giunta che veramente nel momento che viene nominata veramente ci sia diciamo la diciamo l'impulso per veramente affrontare tutti questi problemi che la città ha che non sono da poco sarebbe un peccato accettare delle candidature solo in base a diciamo al numero dei voti che è importante sia chiaro perché il sottoscritto ha sempre rispettato ed è importante dovremmo essere tutti in questa idea rispettare sempre il risultato elettorale e rispettare tutti quelli che partecipano a una campagna elettorale che ci mettono in la faccia l'ho detto l'ho ridetto l'ho detto durante la campagna elettorale l'ho detto l'altra volta questa è una cosa estremamente importante concludo qui sono già 13 minuti anche troppo lungo questo video e se avremo ulteriori li avremo sicuramente ce ne sono certi che sappiamo già ma non li diciamo perché li abbiamo avuti diciamo in modo poco confidenza e speriamo appunto che questa nuova amministrazione parta col piede giusto grazie a tutti